Ciao a tutti, sono Spiegelamontato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su RandomPlay, oggi giochiamo a Divine Intervention, un gioco in flash, trovate il link in descrizione. Iniziamo subito, innanzitutto ringrazio... no, non mi sono scritto il nome, va bene. Credo che lo metterò durante la fase di editing, perché non mi sono segnato il nome della persona, quindi scusa. Ok, iniziamo subito, Play. Allora, se non ho capito male, questo gioco è molto difficile, perché ci vogliono dei riflessi paurosi. Ora vedremo. C'è una piccola introduzione che non schippo. Oh lord, boh. Ha aperto i cancelli di Lucifero. Ok, in pratica la città è stata sommersa di demoni o una cosa del genere. E sta chiedendo aiuto a Dio. Bla bla bla, dammi... È troppo veloce, non riesco a leggerlo. La Bibbia. L'amore salverà la città. Non proprio l'amore, in effetti. Tutti abbiamo una pistola dentro la Bibbia, naturalmente. Certo. Va bene. Ok, la caricata. What? The Day of Reckoning. No, non l'ho letto, va un culo. Play. Allora. Ho letto un pochino l'istruzione. Per sparare le persone o le cose. Bisogna sparare addosso. Ecco, come vedete, non basta puntare verso avanti e sparare. Bisogna proprio puntare la persona. In questo caso mi ha strappato la testa questo bambino di merda. Io odio i bambini nei giochi. Perché sono sempre le stazioni. What? Prendo... Ecco, vedete, vedete? Bruttata, rovia. Non sei altro. Ti stacca una gamba, la testa... Porca puttana, scusa, scusa, scusa. No, no, era con figlia, vero? Ok, ok, calmi. Ok. Aspetta che abbasso un po' il volume che mi sto... Ecco, ammazzando le... Oh, porca la puttana, Eva. Ops. Non dovevo proprio... Oh, una nuova arma. Oh, yes. Ho fatto bene, allora, uccidere. Tu sei morto, spero. Oh, porca puttana, troia! Si può morire tre volte? Ehm... E niente, bisogna stare attenti. Perché dopo le tre volte si incomincia da capo. Brutto puttana di merda. Ehm... Non ce l'ho, quindi bambini ve lo giuro, su... Quest bambino di merda. Ecco, game over. Perfetto, ora... Devo... Ricominciare da capo. Play... Mamma mia, quanto mi fanno incazzare questi bambini di merda nei giochi. Nei giochi sono sempre stronzi, non si sa perché. Oh, no, 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 no. Calma, autocontrollo, autocontrollo. Posso saltare? Mio Dio! Ce la potrò mai fare? La risposta è no. Non è così semplice. Ho capito la tattica! Basta tenere sempre il... Il mirino all'inizio del video. Pardon. Ho dato arma, trorietta. Troia di merda! È Natale, tutti stiamo più calmi. Respira. Play. Ok, adesso ce la facciamo. Andrò più avanti nel livello. Vediamo, scommetete, scommetete. Se avessi messo la camera che mi sono dimenticato di mettere, vedreste la mia faccia. Bambina di merda, deve scoppiarti il cervello, bastarda, che non sei altro, ti dover... Ti doverò un tumore. Non vedrai le luce del sole domani, brutto stronzo. Sto diventando un po', come dire, un cazzato nero, nerissimo, proprio. Play. Con calma ce la facciamo. Ok, allora, con convinzione. Ora vi spaccherò il culo. Avete capito? Oh, santo Dio. Ce la debbo fare. E che fa veloce, questa bastardo. Tutta bastarda che non sei altro. Ora non ho capito se è questa qua che mi dà le armi... Non ho capito se è questa qua che mi dà le armi, devo ucciderla, oppure me la dà lo stesso l'arma. Vediamo un po'. Ehi! Grazie. Non ti lascerò mai viva, puttanella. Figlio di troia, tua madre! E' una bravissima persona. Bravissimissima. Brava, veramente brava. Credo di averce l'ha fatta! No! What the fuck? Ho visto bene. Riproviamoci. Se non ci riesco adesso, mincavolo da morire. Proprio... Faccio tutto. Proprio tutto, tutto, tutto. Tutto brutto, bambino di merda, deve venire un uccera. No, non si augurano queste cose, non si augurano. Un infarto sì però, brutto filo di una tuttana. Tua mamma lavora nella tangenziale. Brucia nell'inferno. Olè! Ciao! La cosa bella è che hai munizioni infinite. Quindi, almeno quello di problema non c'è. Boom! Ehi! Ciao! Sono cattivo, lo so. Allora, la prima cosa, stiamo attenti ai bambini che sono stronsi. Ok, poi c'è l'altro bambino. Ehi, ciao! Ce l'abbiamo fatta! What the fuck? What the fuck is this? Shitness? No, non ce la farò! Non ce la farò! No! Sto per impazzire. Sto per impazzire. Ora compro una pistola, la metto in una bibbia, poi faccio il matto in tutta la città. Sparerò tutti quelli che vedo. Ok, basta, calma. Questi figli di una gran zoccola devono morire affumicati come della merda! Questo gioco potrebbe indurre all'omicidio. Calmi. Calmi. Se avessi qualcosa da spaccare, l'avessi da spaccata, sarebbe bellissimo spogarsi ogni tanto. Ciao, bambina di merda. Ciao, tizio qualunque di merda. Dove sei? Ah, eccoti! Non si può correre. Ci si può anche inchinare. Zitta, puttana. Allora, vediamo di non farci uscire da tutti brutti bastardi. Ok. Allora, visto che so che appare quella merda. Ma che caccia devo fare io? Devo saltare, non lo so. Game over. No. Ok, l'ultimo tentativo. Poi devo chiudere per forza la puntata perché il tempo è finito. Dai! Con calma, non c'è fretta. Oh my god. Ho ancora tempo. Un altro tentativo. Mi sono dimenticato che avevo di nuovo la pistola. A colpo singolo. Brutto bambino di merda. Si deve venire un... Un niente. Niente di niente. Troia che non sei altro ficcato nel culo a quei coltelli. Poi c'è qua lo stronzore. Deve essere il padre. Sono un po' incazzato, mi effetti. Solo perché gli ho ucciso quei due figli di bagascia. Scusami, non volevo. Allora, i bambini di merda. Se ne sparano le gambe non possono camminare. Questa è una roba interessante. Adesso proverò a saltare. Fuck, fuck. Ho saltato, fuck. Benissimo. Dopo questa piccola ondata di nervosismo. Vi saluto perché il tempo è finito. Quindi io sono SpiegerAunt8. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Vi trovate sempre su Twitter, Google Plus o su mio cito spiegeraunt8.x10.mx O su Facebook digitando facebook.com slash spiegeraunt8official. Io sono SpiegerAunt8. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo video di Random Play. Ciao.